alla partita pareggiata dall'Inter con il Real Madrid in casa. Ecco il momento, il partitore del primo tempo, c'è un pallo su Oriali. Vedete come l'arbitro giunesco sembra dare indicazione di un calcio a due, poi però l'arbitro non fa più altri gesti, si dispone la barriera, Oducin piazza i suoi compagni, ma dentro di sé evidentemente resta convinto che la punizione sia a due. Infatti quando vede arrivare il tiro di Oriali si scanta addirittura. L'arbitro è il turco toccato, si piazza la barriera, finalmente viene fermato anche il pallone, ci sono ottimi specializzati soprattutto da Hansi Müller, forse si pensa a un tocco per Hansi Müller, invece Oriali tira direttamente il portiere e si scanta. L'arbitro convalida il gol, Inter in vantaggio al quarto d'ora con questo gol di Oriali. E rivediamo la fase conclusiva di questo tiro, proprio per rivedere il movimento del portiere Augustin che si scanta, forse poteva intervenire, forse non poteva intervenire, comunque sicuramente lui si scanta considerando il tiro di seconda. Siamo al quinto minuto del secondo tempo, potrebbe essere la svolta della partita. La difesa del Real Madrid manovra la palla abbastanza lentamente, tentativo di pressing dei nerazzurri che conquistano il pallone. Attenzione, azione molto volante, arriva Bergomi ed effettua il traversone. Segna Altobelli, l'arbitro annulla per fuorigioco, ma nella ripetizione si vede benissimo che Altobelli è in posizione regolarissima. Vedete c'è un giocatore nettamente davanti a Altobelli quando parte il traversone da destra di Beppe Bergomi. Soltanto successivamente Altobelli scavalca l'avversario, ma al momento del passaggio Altobelli è in posizione regolare. L'arbitro non convalida e dieci minuti dopo dal possibile 2-0 si passa all'1-1 per un gol Beppe. C'è un lancio lungo, un rinvio della difesa, arriva Galliego e spara questo tiro senza grande convinzione. Stiamo seguendo appunto gli sviluppi di questa azione. ancora la respinta, Galliego tira e Bordogne prima contro la palla, poi ha il classico infortunio del portiere, una cosa che capita.